Durante gli scorsi fine settimana il team Euro Kickboxing ha partecipato a due campionati nazionali targati Feder Combat, tre le medaglie d'oro che il team Chioggiotto si è giudicato lo scorso fine settimana ai campionati italiani di kickboxing, tra queste anche la blasonata medaglia per la gara a squadre. La squadra era composta da Alex Spagno, Edoardo Bagarello che si è giudicato l'oro anche nella categoria senior e Federico Nordio che si è giudicato l'oro anche nella categoria junior. Sia Federico Nordio che Edoardo Bagarello difenderanno i colori della nazionale italiana, i prossimi mondiali di Budapest e i prossimi europei di Atene. Nel medagliere anche un argento per Martina Sartorato e un bronzo per Matteo Veronese. Della nazionale italiana faranno parte anche Sara Nordio ed Edoardo Boscolo. Il mese scorso si erano invece tenuti campionati italiani assoluti cadetti che hanno visto Eleonora Cattin a giudicarsi su un ottimo bronzo. La scorsa settimana altre medaglie sono giunte a premiare la rosa degli atleti di Euro kickboxing che così dimostrano la loro ottima preparazione e il conseguimento di obiettivi ben prefissati. Siamo nello studio del servizio Nordest 2.0 e volevamo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul super bonus, gli interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Super bonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su super bonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, servizi Nordest 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Grazie a tutti.